Un saluto a tutti gli amici di HDblog, siamo in compagnia del Nokia 701, una revisione del Nokia C7, il telefono è molto simile come c'è il Nokia C7 e introduce il nuovo sistema operativo Symbian Bell, l'interfaccia grafica è completamente ridisegnata, avremo 6 diverse home screen, la nuova interfaccia per le notifiche, un nuovo menu con icone completamente ridisegnate in stile Symbian Anna con le 3 icone sempre visualizzabili in basso per riordinare e cercare di tornare indietro, gestione multitasking la solita, abbiamo il nuovo browser web abbastanza rinnovato, le performance sono migliorate, non sono a livelli della concorrenza ma ora navigare è veramente un'ottima esperienza, presente la navigazione multifinestra, presente anche l'NFC con cui potremo interfacciarci per trasferire dati, ascoltare musica tramite il Nokia 360 oppure eseguire vari cecchini con i vari tag. L'interfaccia telefonica è abbastanza simile, la galleria è stata leggermente rinnovata, ricordiamo che non è un firmware finale, comunque le prestazioni sono già abbastanza ottime, molti tassi preciso. Un saluto a tutti da Simone per HDBlock. L'Oper dazu di canale. L'Oper della città amicorazione delmodernismo con un argomentismo. L'Oper di continuo, a fare una cosa nuova. L'Oper di continuo, per rinnovata. Grazie.